nella colonia greca di pestum due templi adiacenti in pietra calcarea dedicati alla dea era guardano verso oriente quello più a sud fu eretto tra il 1550 e il 1520 avanti cristo circa per quanto alcune decorazioni rievuchino i templi della grecia continentale non si tratta affatto di una struttura decorativa il progetto originario prevedeva un opistodomo ma al suo posto sul lato posteriore fu costritto un santuario interno innovazione poi adottata dalle colonie greche occidentali una singola fila di colonne divideva a metà la cella rialzata secondo uno stile arcaico attraverso due porte si accedeva alla cella e all'aditon un'area chiusa retrostante forse usato nelle processioni rituali o per un doppio culto il secondo tempio eretto circa 60 anni dopo è più grande ma più compatto l'opistodomo e i gradini che conducevano alla cella mostrano un'influenza greca continentale si ritiene sia il più puro dei templi dorici sopravvissuti rifinito con una leggera curvatura del centro dello stilobate per correggere la deformazione prospettica con un'inclinazione verso l'interno delle colonne e una riduzione degli spazi frontali e laterali agli angoli per centrare i triglifi sovrastanti le colonne erano rivestite di stucco per donare al travertire un aspetto marmorio il rigonfiamento del fusto delle colonne era detto entasi e rappresentava metaforicamente il carico sostenuto nel secondo tempio di era nelle curve delicate dell'ereteo e degli alti edifici dell'atene classica il rigonfiamento appare assai meno marcato l'architrave era separato dal freggio da una fascia di arenaria in origine decorata con motivi a foglie le estremità dei blocchi di sostegno tutto ciò che resta del freggio privo di metope e triglifi mostrano ancora i larghi in tagli a u dove scorrevano le corde con cui si sollevavano i blocchi in posizione il collo dei capitelli è decorato con motivi floreali scolpiti simili a quelli della grecia nord occidentale sul retro del tempio alcuni capitelli hanno altre decorazioni con fiori di loto rosette viticci e palmette in origine colorati e più appariscenti potrebbero essere opera di scultori diversi il profilo dei tetti dei templi era decorato con terracotte architettoniche in stile tradizionale nulla rimane della parte sovrastante il freggio ma sono state trovate numerose antefisse in terracotta dipinta provenienti dalle grondaie questo frammento risale al 520 avanti cristo circa proviene da un lato lungo del primo tempio di era ed è costituito da una sima parte terminale della cornice del tetto usata come canale di scolo decorata con palmette fiori di loto e finte teste di leone se ti è piaciuto il video iscriviti al canale lascia like e condividilo con i tuoi amici ti invito anche a visitare il mio negozio un saluto e al prossimo video di arte esplorando il mio negozio un saluto